Dopo aver cenato, non volevano saldare il conto ed è successo il finimondo in una pizzeria della zona della Farnesiana Piacenza, protagonisti del turbolento episodio zio e nipote di 37 e 20 anni residenti nel Pavese. Entrambi sono finiti in manette. Ieri sera intorno a mezzanotte i due uomini che avevano bevuto qualche bicchiere di troppo hanno dato in escandescenze al momento del pagamento ed hanno iniziato a lanciare bottiglie e oggetti nel locale. I frammenti hanno anche colpito alcuni clienti. Sul posto sono intervenuti i reparti di prevenzione crimine di pattuglia nell'area e una volante di polizia. I due uomini non volevano fornire le loro generalità e si sono scagliati anche contro i tutori dell'ordine. Le accuse, delle quali ora devono rispondere, sono danneggiamento aggravato, lesioni, resistenza e minacce a pubblico ufficiale, oltre al rifiuto di fornire le proprie generalità.